Incidenti stradali, triste primato in Sicilia per Trapani, Palermo e Siracusa, i dati sono allarmanti. A Bagheria la Guardia di Finanza ha denunciato un commerciante abusivo che percepiva il reddito di cittadinanza. Grande successo per il sedicesimo concerto dell'Epifania, il primo che inaugura la quarta stagione concertistica Città di Bagheria 2020. Buonasera, ben trovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 8 gennaio. Incidenti stradali, triste primato in Sicilia per Trapani, Palermo e Siracusa, i dati sono allarmanti. Solo nelle ultime ore quattro morti in strada. 66.800 siciliani, tanti sono gli automobilisti della regione che secondo l'analisi di Facile.it a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare conti con un peggioramento della propria classe di merito e di conseguenza un premio RC auto più caro. Sempre in virtù dell'incidente causato per loro non sarà nemmeno possibile ricorrere alla nuova RC familiare. In termini percentuali si tratta del 2,89% del campione analizzato, ma il valore risulta inferiore a quello nazionale, al 3,76%. Guardando la provincia di Siracusa, la percentuale di automobilisti ricorsi all'assicurazione per un sinistro con colpa è pari al 3,18%, valore tra i più alti registrati nell'isola. Analizzando la graduatoria delle province siciliane, al primo posto si trova Trapani con 3,69%, seguono Palermo con 3,49% e Siracusa con 3,18%. Valori inferiori alla media regionale invece per Caltanissetta 2,88%, Messina 2,78% e Ragusa con 2,51%. Chiudono la classifica Catania 2,34%, Agrigento 1,72% e infine Enna con 1,35%. Buone notizie invece per automobilisti più virtuosi per assicurare un veicolo nella provincia di Siracusa a dicembre 2019 occorrevano in media 458,51 euro, ovvero il 5,75% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Solo nelle ultime ore in Sicilia si sono verificati 5 gravissimi incidenti stradali. Un uomo di 41 anni, Massimiliano Gurrieri, è morto sulla strada statale 385, quella che collega è la città di Catania a Calta Girone. Il 41enne era a bordo della propria auto quando per causa ancora al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuoristrada. Si stava recando al lavoro, immediato l'arrivo degli uomini del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nel territorio di Modica è invece deceduta una 44enne di origini ucraine, dopo che l'auto sulla quale viaggiava guidata dal compagno è finita fuoristrada sulla strada provinciale Ispica-Pozzallo, abbattendo un muro di cemento armato. Sulla Palermo Agrigento sono venute a mancare altre due persone a seguito di un incidente avvenuto presso lo svincolo autostradale di Villa Abate. Due auto si sono scontrate frontalmente, una Fiat Idea e una Punto, guidate da un quarantenne e da un 69enne, entrambi deceduti. Infine l'ultimo tragico incidente è quello avvenuto sull'autostrada A29 che collega Palermo a Trapani. Uno scontro tra auto in cui ha avuto la peggio il 73enne di Pantelleria Giuseppe Brignone, deceduto dopo l'impatto. Ferita in maniera grave anche la moglie, al momento ricoverata presso l'ospedale di Trapani. A Bagheria la Guardia di Finanza ha denunciato un commerciante abusivo che percepiva il reddito di cittadinanza. Esercitava un'attività di commercio di prodotti ortofrutticoli in forma abusiva e percepiva il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza, nell'ambito di alcuni servizi di controllo economico del territorio, hanno denunciato all'autorità giudiziaria un bagherese. L'uomo, ammesso al reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019, ha omesso di dichiarare l'inizio dell'attività all'ente previdenziale IMS, ento il termine dei 30 giorni previsto al decreto che ha istituito, proprio il reddito di cittadinanza, che obbliga a comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio, nonché le altre informazioni dovute e rilevanti ai fini dell'arrevoca o della riduzione del beneficio, come ad esempio l'avvio di un'attività lavorativa o comunque la variazione della condizione occupazionale. A seguito del blocco della carta prepagata è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Merese. La merce detenuta è stata sequestrata e donata da associazioni caritatevoli del territorio. Nel contempo sono state immediatamente avviate le operazioni di irrogazioni delle sanzioni amministrative di irrevoca decadenza del beneficio ed il recupero dell'indebito di competenza dell'IMSS. L'odierna attività di servizio conferma la fondamentale importanza del ruolo di polizia economico-finanziaria affidata al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate allo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di necessità e bisogno. Mareggiate nel Messinese interviene la Regione, non c'è ancora una stima ufficiale ma i vari interventi dovrebbero richiedere una spesa di circa 8 milioni di euro. Vediamo. Un intervento tempestivo per ricostruire e consolidare tutte le cosiddette barriere soffolte già esistenti lungo la fascia tirrenica, ma anche una decisa accelerazione per entrare nella fase operativa del contratto di costa pensato ed elaborato proprio per arrestare i fenomeni erosivi provocati su 80 km di litorale, da Tusa fino a Patti dalle Mareggiate. Quello che si è registrato alla vigilia dello scorso Natale è stato particolarmente devastante. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, alla guida dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico, ha voluto fare il punto della situazione con i rappresentanti della struttura commissariale e con il capo del genio civile di Messina. Siamo ormai in presenza di eventi meteorologici non più eccezionali ma purtroppo sempre più frequenti e sta a noi adottare tutte le misure necessarie per non farci trovare impreparati, ha sottolineato il Governatore che ha dato il via libera all'immediato utilizzo di una parte del budget del contratto di costa per la rifioritura delle protezioni artificiali in pietra realizzate a mare e che con il passare degli anni sono state danneggiate dai flutti, perdendo così gran parte della loro efficacia. Inoltre sarà ripristinata la linea di costa originaria attraverso l'immissione di sabbia lì dove il mare ha cancellato la spiaggia. Non c'è ancora una stima ufficiale ma i vari interventi dovrebbero richiedere una spesa di circa 8 milioni di euro. Il Governatore ha poi sollecitato un'accelerazione sull'attuazione del piano complessivo anti-erosione. Dobbiamo assolutamente entrare nella fase operativa, ha detto Musumeci, concludere tutte le indagini necessarie, dotarci dei progetti esecutivi e cominciare ad affidare gli interventi di risanamento e di prevenzione, realizzando così un sistema organico che possa salvaguardare quanto più a lungo possibile quei litorali meravigliosi che sono da sempre più esposti all'aggressione del mare. Intanto per le zone aggredite dal mare in Burrasca l'esecutivo regionale si è già attivato approvando una delibera con la quale si dichiara lo stato di calamità e si sollecita al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza. In seguito all'incontro avvenuto con l'assessore Marco Falcone, gli autotrasportatori hanno sospeso la loro protesta ritirando il presidio di blocco dei tir dinanzi il porto di Palermo dovuto al caro Navi. Permane comunque lo stato di agitazione dei lavoratori che attendono risposte certe da parte del Governo nazionale per la risoluzione della questione. Spendiamo l'agitazione, diamo fiducia di nuovo alla Regione che si farà carico di presentare al Governo nazionale delle proposte, delle proposte che speriamo che vengano accolte. La prossima settimana sarà convocata al Ministero la Regione e porterà una delegazione della consulta regionale dell'autotrasporto. Io spero che si riescano a trovare delle soluzioni anche perché il problema c'è ed esiste e va affrontato. Abbiamo anche affrontato il problema della Palermo Catania e abbiamo dato anche delle possibili soluzioni che l'assessore ha fatto sue e valuterà, è in sede opportuna quindi al Ministero, dirà quale possono essere queste soluzioni per scongiurare questo problema che abbiamo sulla Palermo Catania. Complimenti all'assessore che ha riunito la consulta in maniera così tempestiva. Io sono stato chiamato questa mattina e quindi oggi pomeriggio abbiamo fatto questa riunione con tutto l'autotrasporto, con i tre presidenti dell'autorità e questo è un bel segnale perché è un segnale di insieme che la Regione siciliana manda anche al Governo centrale. Il fatto che il Vice Ministro e il Ministro siano usciti con un comunicato stampa che un po' stemperava la tensione che si era accumulata nei porti, certamente è stato un elemento che ha fatto ragionare il tavolo sulla possibilità di attendere soprattutto le associazioni che rappresentano l'autotrasporto sulla necessità oggi di non creare in attesa dei risultati che verranno dai prossimi incontri non creare ulteriori problemi perché l'economia portuale è un'economia molto importante, determinante per i territori e quindi bloccarla sarebbe davvero un danno incommensurabile. Il Giardino Inglese di Palermo, polmone verde di 60.000 metri quadrati con alberi secolari, fontane e monumenti, oggi mostra delle gravi problematiche. L'assenza di illuminazione notturna è la carenza più evidente. Un fiore all'occhiello nel cuore della città, il Giardino Inglese è stato realizzato nel 1851 dall'architetto Giovanni Filippo Basile, un polmone verde di 60.000 metri quadrati che con i suoi alberi secolari arricchiti da fontane e monumenti è da sempre il parco più amato dei cittadini palermitani. Pochi giorni fa, l'intitolazione del parco a Piersanti Mattarella, esempio di una visione politica incentrata sul rigore morale, volto al bene della collettività. Presidente della regione siciliana, ucciso dalla mafia 40 anni fa, Piersanti Mattarella usava dire che il primato della politica si fonda sull'eticità dei comportamenti. Il parco a lui dedicato, meraviglioso nel suo complesso, mostra ad oggi delle gravi pecche irrisolte già da anni. L'assenza dell'illuminazione notturna, la carenza più evidente. Siamo residenti di zona, quindi assistiamo quotidianamente all'evolversi della manutenzione del giardino che per carità viene fatta, però auspichiamo che la restituzione di questo spazio alla cittadinanza attraverso l'intitolazione alla figura fulgida di Piersanti Mattarella sia da stimolo per una manutenzione sempre crescente e degli spazi verdi e delle fontane e della villetta Liberti e della Serra che sono abbandonate loro stesse ormai da anni, anche del manto dei viali che è spesso presente delle irregolarità che per le famiglie con bambini possono essere pericolose per un inciampo o altro, biciclettine e tutto. E dall'altro lato si auspica anche la previsione di un parco giochi libero al di là di quello già esistente e dato in concessione a una società privata e magari un'area sgambo per i cani, visto che anche noi abbiamo degli amici a quattro zampe e spesso si creano dei conflitti fra bimbi che giocano e cani che corrono e quindi che questo spazio venga restitito alla cittadinanza e coniando la frase del presidente Mattarella, Piersanti Mattarella, creiamo un parco cittadino con le carte in regola. Anzi la sua signora ha sottolineato il fatto che questa villa è costantemente al buio la sera. Specialmente nei mesi invernali in cui comincia a far buio dalle 17, 16 e 30 quando le giornate sono più corte. Anche ritrovarsi qui a passeggiare magari tagliando per accorciere la strada potrebbe portare a dei pericoli perché si tratta comunque di viali alberati, completamente al buio e in zone più isolate rispetto a quella che può essere una pubblica via. Pertanto anche un intervento sull'illuminazione si rende auspicabile se non necessario. Io lavoro qua a Bardel del Giardino Ingliesa 11 anni e quanto vedo che l'inverno senza luce, anche l'estate. Chiudono quasi alle 7 perché la mancanza di luce. Come vengono tante mamme, cosa, noi pure lavoriamo poco e con il stretto chiudere la prima perché troppo senza luce gente spaventa la entrare. Dopo alle 5 in inverno c'è un buio di troppo. Noi aspettiamo che al mettero una luce almeno per anche lavorare un po' di più perché io lavoro tanti anni, campiamo famiglia, ce l'ha pure mia una collega, siamo 3-4 che viviamo questo lavoro. Speriamo che l'accenda la luce. Grande successo per il sedicesimo concerto dell'Epifania e il primo che inaugura la quarta stagione concertistica Città di Bagheria 2020 che si è tenuto presso la parrocchia del Santuario Maria Santissima Immacolata. Vediamo. Grande successo per il sedicesimo concerto dell'Epifania ed il primo che inaugura la quarta stagione concertistica Città di Bagheria 2020 che si è tenuto presso la parrocchia del Santuario Maria Santissima Immacolata. Ad esibirsi 110 cantori, 70 voci bianche e 40 adulti diretti da Salvatore Di Blasi e l'orchestra da camera Bequadro di Bagheria. Il programma musicale ha visto alternarsi i brani della tradizione natalizia come Tusceni dalle stelle, astro del Celle ad Este Fidelis, ad altri più classici come l'Ave Maria di Caccini e l'Alleluia di Endel. Un concerto reso possibile anche grazie a Don Giovanni Basile, parroco del Santuario Maria Santissima Immacolata di Bagheria che da sempre ha manifestato grande sensibilità verso la musica e grande disponibilità ad accogliere l'esibizione concertistica. In occasione dell'evento l'artista Alessandro Barretta ha realizzato il dipinto il viaggio dei Maggi, appositamente per il concerto dell'Epifania. Un appuntamento tanto apprezzato anche dai mille spettatori che hanno affollato il santuario. Una serata all'insegna dell'aggregazione a Villa Adriana a Palermo, la prestigiosa dimora storica, oggi un museo della sicilianità, musica, arte e spettacolo hanno animato la festa. Questa serata abbiamo appunto festeggiato l'inizio del nuovo anno in questa location particolare che è una villa appunto che risale a 1750 e che ci è stata affidata in quanto rappresentante della cooperativa Sicilia di Solare Tesori che ne abbiamo fatto praticamente un museo didattico della sicilianità. All'interno si trovano diverse opere che raccontano la storia e la cultura della Sicilia, non solo in chiave tradizionale come nelle figure dei paradini che avete visto nella sala dove abbiamo pranzato, ma anche attraverso delle immagini e carattere satirico come quelle che potete vedere attorno a noi. Insomma, Villa Adriana torna a rivivere nel suo pieno splendore. Direi proprio di sì perché è stata riaperta dopo ben 80 anni in cui la villa non era assolutamente fruibile al pubblico. Noi abbiamo appunto preso in mano questa villa e ne abbiamo fatto il museo che adesso state ammirando. Musica a Villa Adriana con la grandissima artista di Rai Uno, Rita Sensoli. Hai intrattenuto questa sera il tuo pubblico appunto durante questo capodanno? Attraverso la musica romana e napoletana, che per te ha un significato molto profondo. Sì, innanzitutto io sono origine siciliana ma sono nata a Roma, quindi per me la musica romana e napoletana hanno un grande significato perché le loro parole danno un significato. Secondo me la musica di adesso è bella fino a un certo punto, dura un anno, due anni e finisce. Questo tipo di musica, tu sei una cosa grande ma la femmina, Roma non fa la stupida stasera, sono pezzi storici che non moriranno mai. Mina, la grande Mina, ecco con quei brani meravigliosi, perché per me i brani degli anni 70-80 sono meravigliosi e non moriranno mai, come la musica disco dance degli anni 70-80 americana. Questa serata è stata davvero ricca di sorprese dalla musica all'arte e in questo contesto artistico rientra anche la cucina. È stata servita questa sera una cucina davvero particolare, tutta siciliana. Sì, sicuramente sì, perché sono stati preferiti tutti i prodotti della nostra regione all'insegna del mangiare sano, mangiare siciliano. Dalle piccole produzioni di base, l'olio d'oliva, che è un olio autoctono, arriva da Alto Fonte, ai grani il pane arrivava da Marineo, i formaggi, o meglio i latticini, arrivavano dalla Valle del Lojato. Quindi questo compendio delle valli del territorio delle terre normanne ha fatto da base alle produzioni. Al comune di Torretta la quinta edizione del presepe vivente allestito nell'antico borgo del paese. Qui a Torretta quinta edizione del presepe vivente, una manifestazione che coniuga cultura e religione. Ci troviamo nel vecchio borgo antico di Torretta, dove inizia e dà inizio a tutto il paese. Dal 2014 abbiamo creato questa bella iniziativa per continuare a trasmettere le nostre tradizioni. Quindi quello che vedrete, quello che c'è, è tutto quello che si produce e si continua a tramandare a Torretta. Il vecchio borgo antico risale al 1600, sono stati i primi abitanti di Torretta e da qui nasce Torretta. Ringrazio l'associazione, anche se io sono il presidente della Prologo, ringrazio l'associazione in capo comune che si è interessata a iniziare questa bella tradizione che Torretta ne era priva. Oggi abbiamo tanta voglia di costruire, tanta voglia di tramandare, tanta voglia di iniziare. Non sono tempi felici, ma cerchiamo nel nostro piccolo di rendere anche altri sereni. Questo era un ultimo brano che ho appena registrato e quindi lo sto riproponendo per la prima volta quest'anno. Noi sempre gratuitamente diamo il nostro contributo, noi dalla banda cittadina di Torretta, perché siamo innamorati di questo paese e per quelle iniziative che è riuscito a produrre siamo grati e fieri che anche senza contributi possiamo mantenere. Lei cosa rappresenta? Il potestà diciamo ottocentesco. Diciamo riprendiamo le nostre tradizioni, anche per far vedere la nuova generazione come si viveva un tempo e le mentalità che si sono tramandate diciamo oggi e oggi. Stavo facendo le amiche, queste servevano per infasciare le legne, per infasciare il feno, per infasciare tutto, perché facevano il cambio della corda, facevano i scupe per scupare a terra, facevano un crino per fare i matarazzi, che si dormiva bene. Mio nonno dormeva in capuna queste e capò 102 anni e tre mesi. Grande affluenza di pubblico, cosa ne pensa? A Torretta abbiamo proprio i luoghi adatti per fare questa grande manifestazione, questo preservo vivente. Come voi state ammirando queste case rimaste intatte da più di 150 anni, 200 anni. Io da ragazzino vivevo in questi luoghi, in vacanza, anche poi di festivo. Ed è una bella realtà che Torretta merita, ma merita molto molto di più. Sempre a Torretta, ogni anno, alle spalle di Montecuccio. Io ho cresciuto a Baida, non posso mancare. Un comprensorio che mi è davvero caro. Tra l'altro quest'anno sono riusciti davvero, con il coinvolgimento della banda, le associazioni, della Prologo, del parroco che sta facendo un grande lavoro, a mettere su un'iniziativa che ha il sapore del passato e che riesce bene a coniugare anche qui a Torretta la tradizione, la cultura e il rito religioso. Campo Felice di Fitalia, visita al Museo del Grano e della Civiltà Contadina, fondato dal dottor Domenico Gambino, allo scopo di valorizzare e conservare la memoria storica del territorio e delle tradizioni. Campo Felice di Fitalia, il Museo del Grano e della Civiltà Contadina Siciliana. Si ricollega all'identificazione di Campo Felice di Fitalia, che da un decennio addietro è identificato quale paese del grano. L'idea di questo museo nasce per la valorizzazione e il recupero dell'entità storico-culturale di Campo Felice di Fitalia. Un paese che è stato fondato agli albori del 1800 dal principe di Fitalia, proprio per sfruttare il suo vasto territorio, che era quello dello Stato di Fitalia, altamente avvocato alla cenericoltura. Il progetto del principe ha avuto successo, però dobbiamo dire che poi nell'ultimo dopoguerra, per la mancanza di lavoro nel sud Italia, nei paesi siciliani, c'è stato il boom economico nel nord Italia, molte persone sono emigrate. Chi è rimasto ha continuato, sì, a coltivare il grano, ma contemporaneamente si è persa quella identità che lui accennava in origine, che è legata proprio alla coltivazione del grano. Quindi la nascita di questo museo, che è stato fondato nel 2014, vuole recuperare questa identità del paese, ma non solo fino a se stessa, ma per cercare di valorizzare il territorio. Oggi, ad esempio, abbiamo promosso un'iniziativa, quella della festa del grano, proprio per riempirla di contenuti. Il museo, logicamente, non si rivolge principalmente agli abitanti di Campo Felice, perché loro, bene o male, le persone in una certa età, conoscono bene questi oggetti e raccontano pure degli aneddoti. Ma si rivolge ai giovani e alle persone che vengono fuori proprio per far conoscere il nostro territorio. Perché questo museo, poi, in definitiva, con l'associazione culturale, che porta lo stesso nome, annualmente promuove delle iniziative, convegni, escursioni, proprio al fine di far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Un altro aspetto è quello di incentivare ancora oggi i produttori del grano che invece si limitano semplicemente alla coltivazione del grano. A gennaio e a febbraio seminavano Tommenia. Oggi questa valorizzazione che si è data a Tommenia, il pane di Tommenia, valorizzato, qui, ad esempio, non si sembra Tommenia, come non si sembra, ad esempio, i percesacchi. E allora bisogna riprendere queste attività con uno spirito imprenditoriale. Quando è possibile visitarlo? Quando è aperto il museo di Campo Felice? Allora, il museo nel periodo estivo, attraverso una programmazione, viene aperto in determinati giorni. Poi, durante l'anno, si possono prendere gli appuntamenti e quindi il museo viene aperto con molta disponibilità. Non si paga, si visita, si cerca di portare gente a Campo Felice anche per conoscere questa realtà contadina. È tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento alla seconda edizione di Media News. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.